Silvano Pieruccini, questa mattina parliamo prevalentemente di sport e di pugilato, è tornato a trovarci un altro maestro, quello di pugilato però, tecnico titolare della pugilistica lucchese Giulio Monserezan. Buongiorno Giulio e grazie di essere tornato a trovarci, di aver accettato il nostro invito, possiamo dire alla fine di un anno e all'inizio di un altro in pratica, siamo a cavallo tra due annate per voi mi auguro molto importante. Mentre finiva la sigla Giulio è arrivato un messaggio, non dico che sia un record perché talvolta arrivano anche prima, però così lo leggiamo subito, non l'abbiamo fatto in tempo ad entrare in trasmissione, lo leggiamo subito, un saluto al grande maestro Monserezan che se si ricorda avevamo già parlato di box quando era stato ospite a Buongiorno con noi la stagione scorsa, Eh sì, probabile che lui, abbiamo parlato di box, ora non so, non si firma questo nostro telespettatore, non so se è Gao, non so se siete Gao, se avevi fatto qualche domanda però sicuramente… Io contraccando i saluti, con piacere. Con Giulio Monserezan è sempre piacere parlare di box, io non approfitto di pugilato, 360 10 38 330 se volete intervenire. Allora Giulio io partirei insomma dalle premesse di un 2018, poi lo vedremo che si preannuncia molto intenso, ricco di appuntamenti, ma che nasce sulla scia di un 2017, io leggevo il buon Barsotti che manda tutti i comunicati stampa, diceva quattro titoli italiani, una cintura internazionale e tanti altri successi, così, tanto proprio per esemplificare in poche parole, quindi un bel 2017 mi pare. Un 2017 veramente proficuo grazie a questi ragazzi che hanno fatto tesoro del lavoro che fanno fatto in palestra, hanno concretizzato il lavoro che hanno fatto in palestra e sì, quelli sono i titoli maggiori, quelli che hanno più risonanza ovviamente, però ci sono stati anche tanti altri successi, più o meno piccoli, durante il corso del 2017, tipo tornei nazionali, vabbè, non parliamo di qualificazioni regionali. I quattro titoli italiani vogliamo ricordarli così, come sono arrivati, perché si parla anche di ragazzi piuttosto giovani, che significa anche di prospettiva. Sì, quattro titoli italiani sono arrivati, due dal settore della light box con Martina Morotti e Nicola Santi e due invece dal punto della box, quella agonistica, nella categoria degli school boys con Samuele Giuliano e Lorenzo Frugoli. Da non dimenticare anche la medaglia di bronzo, terzo classificato, di Lorenzo Garofano. Garofano, quindi insomma Giuliano, Frugoli, Garofano e parliamo di ragazzi di 14-15 anni, no? Sì, esatto. Quindi con tutte le incognite che a questa età pure, perché è chiaro che a 14-15 anni non si può dire quello diventerà un campione, quello diventerà chissà cosa. No, assolutamente. È un po' improbabile poterlo dire. Però ti posso dire questo. Però le basi ci sono. Sono ragazzi che si impegnano tanto, danno tanto, si sacrificano tanto, pertanto non credo che possano nel breve periodo incorrere a qualche incidente di percorso, perché per quanto riguarda la sanità, che è una cosa fondamentale, sono molti. Invece quello che stiamo vedendo, se non sbaglio, lo possiamo anche riproporre adesso, è Joel Santos. Sì, Santos. Che possiamo dire è uno di quelli già più grandi, che è un po' uno dei fiori all'occhiello in questo momento della pugilistica l'occhiello. È un pugile voluto. Cosa ci puoi dire di Joel Santos, che ricordiamo è quello con la cannottiera rossa? Joel Santos ha avuto un buonissimo 2017, che è stato, che è culminato con il risultato che ha avuto in Francia, un torneo che si chiama Le Cinture. Un torneo internazionale dove ci sono, mi sembra, 16 nazioni che partecipano. Ha fatto due bellissimi incontri, ha vinto questo torneo, meritatamente, fra l'altro, poi l'ha vinto in maniera spettacolare perché una volta... Perché è il pugile, insomma, che soprattutto ha il pugno, no? Se mi dicevi... Sì. Cioè è uno che se ti colpisce poi fa veramente male. Fa la differenza, fa la differenza. Il pugno fa la differenza. Quelli che una volta, non so se si dice ancora, ne è pugilato il picchiatore, no? Sì, no, il picchiatore è quello che... Il picchiatore ne parliamo dopo, del picchiatore. Quindi in questo caso come si dice? Aiutami. No, c'è il pugno che può decidere l'esito in un incontro. Può ribaltare anche completamente un incontro. Quindi lui può essere anche esantaggio ai punti, però se ti prende... Sì, lui ha quella possibilità di... Lui non è ancora professionista, ci sono le prospettive oppure ha bisogno forse ancora di... Le prospettive ci sono e secondo me lui riuscirebbe a esprimersi meglio nel professionismo più che nel dilettantismo. Ma ha ancora bisogno di fare qualche esperienza, di salire ancora su ring per qualche volta. Quindi è meglio aspettare un po'. Dopo Marco, se andiamo avanti su quel contributo lì che è un pochino più avanti, qualche minuto, c'è un altro combattimento di un certo signor Marvin De Mollari di cui parleremo. Poi naturalmente parliamo anche dell'aspetto organizzativo, dei soliti problemi, purtroppo Giulio, che avete. Ormai ne parliamo... Se hai una telenovela infinita. Sì. Le immagini su De Mollari di cui parliamo tra poco, perché De Mollari, ricordiamo, è passato professionista. Andiamo velocemente a vedere il fascicolo della Nazione di Lucca, che ci sono delle notizie, tra virgolette, anche, insomma, così, po' clamorose, no? Arresti domiciliari. Questa foto vediamo Virgilio Luvisotti, associazione per delinquere, finalizzata alla turbativa d'asta e corruzione. In manette il giudice Roberto Buffo, i vertici dell'Ivg, Virgilio Luvisotti e Giovanni Avino. Poi adesso vedremo all'interno. Poi nel Morianese cosa succede? Trombe da stadio, urla e fischietti per scacciare i ladri dalle case. Poi c'è la notizia di Bortoli che lascia la guida di Lucca Holding per ragioni personali. Poi, per fortuna, c'è anche una bella notizia. Tornata a casa la donna colpita da meningite. Dopo 21 giorni di ricovero, i figli dicono, è stato un piccolo miracolo. Quindi, insomma, questa perlomeno è una prima pagina dove non ci sono tante belle notizie. Allora, la giustizia di Zorro, il giudice, l'avvocatessa e il giro dei soldi facili. Le intercettazioni, frasi sciocca al telefono tra il magistrato e il commercialista. Il re delle aste giudiziarie, lo vediamo qui, Virgilio Luvisotti, è agli arresti domiciliari. Luvisotti è stato anche consigliere regionale di AN. E, dubbiamente, questa notizia che è uscita ieri nel pomeriggio ha destato abbastanza perplessità. Anche se ormai diventa difficile, al giorno d'oggi, meravigliarsi più di qualcosa con tutto quello che ci succede intorno. Poi, Bortoli lascia Lucca Holding, arriva del prete, motivi personali, lo vediamo in questa foto, Andrea Bortoli, e professionali. Trombe da stadio antiladri, il Morianese si organizza, gli abitanti, ora rischiamo la denuncia, assurdo. È una vicenda un po' particolare, però, insomma, forse avremo modo poi di tornarci. Ambiente e degrado, San Romano, questa è un'altra notizia curiosa, che troviamo a pagina 7, si tinge a luci rosse, giornaletti hard sparsi in centro, pagine osè strappate e gettate anche alla sortita di San Colombano. Poi c'è un doloroso taglio di 16 antichi alberi, erano marciti a rischio crollo e la gente si candida per farne legna. Saldi col freno a mano, commercio, negozianti delusi dall'avvio degli sconti. Poi si va verso le elezioni del 4 marzo, le politiche, Marcucci Mallegni sfida al Senato, centrodestra è una scelta fra tre. Cinque stelle, Giorgi in vantaggio, ma decidono le parlamentari online. Maurizio Verona è il vicepresidente, provincia, il debutto del Consiglio eletto a dicembre, ne parleremo poi nel corso del Tg del tardo pomeriggio e della sera. Andiamo nel comune di Capannori a Paganico, questo articolo di Massimo Stefanini, il centenario della grande guerra, un tributo nel calendario fratres, nell'annuario notizie e ricordi dei nostri giovani caduti per la patria. Eh sì, la guerra 15-18, è passato un secolo. E poi festa per Luca, missionario da 21 anni, parliamo di Luca Bianucci, che qui vediamo al centro della foto con il sindaco di Porcari, l'assessore Elisa Baiocchi. Festa per Luca, missionario in Brasile da 21 anni, un missionario laico. Andiamo in Garfagnana, Piazza Al Serchio, la denuncia di cinque insegnanti, usate e poi scaricate dalla scuola, escluse dalle gradatorie, ingiustizia e danno all'istruzione. A Borgamozzano, disagi per i cittadini, paese senza medico, sostituto protempore in attesa della nomina. Voglio andare velocemente anche a vedere il Tirreno, con la prima pagina appunto della cronaca di Luca, partecipate, Bortoli si dimette, la holding del prete, motivi personali, dietro la scelta dell'amministratore unico. Nel futuro è possibile il ritorno al consiglio di amministrazione, con tre componenti. Addio a Giovanni Guaiana, parliamo di sanità, mago della chirurgia, il professore abitante a Pisa è morto all'età di 75 anni, domani funerali, per oltre 20 anni ha guidato la chirurgia del campo di Marte, quindi qui a Luca tutti lo ricordano molto bene. dolore in ospedale, muore infermiera di 50 anni, fino all'ultima è stata accudita dalle sue colleghe, eccola questa foto, Paola Bartolini, e poi stroncato da un malore qualche giorno fa, domani in funerale, aveva 42 anni, di Tommaso Angelini. Quindi diranno che la vita media è allungata, caro Giulio, però c'è gente che purtroppo continua a morire ad un'età in cui, insomma, non si dovrebbe mai morire, però insomma a 50, a 42 anni. Chiudiamo con la cronaca di Viareggio dal Tirreno, anche qui si parla di arresti, arrestato ex vicepresidente del Pucciniano, sempre per la vicenda delle aste giudiziarie, Oberto Cecchetti, 72 anni, è stato giudice di pace a Carrara, la fondazione fu chiamato dal vice sindaco Costagliola. Poi vi segnalo, pioggia dentro l'ospedale, ora l'asla corre ai ripari, poliziotti salvano cane sulla 12, si tratta di un colli, concessione passeggiata, incontro decisivo a fine mese, siamo sempre a Viareggio, e poi a proposito di Viareggio, rifiuti, Viareggio pagherà il debito, il sindaco del Ghingaro, nominato presidente della conferenza zonale, ieri ha rassicurato tutti. E poi c'è il carnevale, ormai mancano solo 17 giorni, oggi è il 10, si comincia sabato 27, il countdown meno 17, diretta a Raima senza corso, confermata la trasmissione alle 14.50, però la sfilata inizierà solo alle 17. non commento, il campione in carica aspetta Godot, di carta pesta, parliamo di Alessandro Avanzini, e poi per quanto riguarda il turismo, pacchetti per gli hotel di Lido di Camaiore, sconti sulle camere, la possibilità di avere incluso anche il biglietto, si è appassionato di carnevale? Ma sinceramente non ti ho. No, no, quindi non lo segui più di tanto. Non lo sento tanto. Non lo segui più di tanto. L'ho visto sbandare e colpire il camion, andiamo a Lido di Camaiore, ricorderete la notizia di quel signore anziano di 85 anni, che purtroppo poi è morto, un testimone racconta l'incidente avvenuto lungo l'Italica, lunedì pomeriggio, la salma della vittima Bruno Politi, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sempre da Camaiore, da Massarosa, anzi nessuna tassa sui passi carrabili, la comandante della municipale, l'ANAS, non può mettere il canone per legge, e poi mi sembra, sì, d'aver finito, sono le 8.44, noi andiamo in pausa, poi parliamo di Marvin De Mollari, passato professionista, che però tu continui a seguire, quindi continua ad allenarsi e a fare il pugilato sotto la tua guida. Questo anche per te è una bella soddisfazione, mi sembra di capire. Eh, certo. Un bel impegno, un bel impegno. Ne parliamo subito dopo, vedremo anche le immagini De Mollari e laddove, insomma, quello che eventualmente potrà fare da professionista, messo e concesso, che insomma è davvero agli inizi, anzi non è ancora cominciato, a tra poco. 8.45, 360, 10, 38, 330, se volete intervenire per porre domande al nostro ospite, il tecnico titolare, io però preferisco chiamare il maestro della pugilistica lucchese, Giulio Monselesa. Giulio, hai portato un foglio, me lo passi un attimo, lo metto qui sopra, perché poi dopo a leggerli tutti, perché abbiamo parlato dei titoli italiani, non so se si può vedere, chiaramente non si può leggere, perché l'inquadratura è piuttosto larga, però se lo possiamo far vedere. Allora, queste sono, diciamo che sono poi una piccola parte di quello che avete fatto, sono i risultati più significativi. Leggo, medaglia d'oro al quarto torneo NEPI, Leonardo Monselesa, poi Samuele Giuliano, Santos, Martina Morotti, Samuele Giuliano, Marvin De Mollari, Marvin Ademagi, se non sbaglio, poi Nicola Santi, Martina Morotti, Lorenzo Garofano, ancora Lorenzo Frugoli, Samuele Giuliano, e poi ci sono i titoli italiani, tantissimi risultati, e questi sono soltanto, possiamo dire, i più significativi, quindi una serie di risultati veramente prestigiosi, a livello individuale e anche a livello come società, no? Sì, sì, chiaro, questi risultati poi dopo aiutano la società a avere maggiore prestigio anche in ambito nazionale, tant'è che, insomma, la pugilistica ruchese ormai in ambito nazionale è considerata una buona realtà. Stella al merito sportivo e Pegaso Toro nel 2017, quindi sono un mare. Sì, sono soddisfazioni. Senti, stiamo vedendo Marvin De Mollari, sempre canottina rossa, se non sbaglio. Eccolo qua. Allora, abbiamo detto di Joel Santos, De Mollari, che è passato professionista, tra l'altro sotto la scuderia, aiutami, Loreni. Loreni di Brescia, sì, che è una delle scuderie più importanti in Italia. Sì, attualmente Loreni è il manager più importante in Italia, nell'ambito nostro, il più importante. Ha molti contatti anche con l'estero, naturalmente, però di cui si parla di contatti con pugili molto più esperti. Eventualmente, quello poi dopo. E niente, De Mollari è un pugile un po' diverso da Joel Santos. Sì, mentre Santos ha questa cosa, questa caratteristica principale, che è quella di poter risolvere i match con un solo pugno, invece Marvin è un pugile che io oserei dire completo, però diciamo che predilige più il combattimento alla corta distanza. E' uno che va sotto, via, non si dire. Anche se lui è in grado di fare qualsiasi tipo di pugilato che venga richiesto, l'importante è che lo decida anche lui, che lo accetti. Ecco, qui lo vediamo appunto impegnato. Lui tra l'altro ora come professionista sarebbe un peso leggero come peso naturale, cosa? Lui da professionista sarebbe un super piuma. Un super piuma. Ora, se facesse il solito peso di quando era dilettante, sarebbe un leggero, però vorrebbe fare il peso ancora inferiore, 58,8. Anche perché, essendolo, vediamo, non tanto alto. Io tra altre cose, scusami, stavo combattendo, ora l'ho riconosciuto. Con un avversario venuto appositamente dall'Olanda per fare combattere lui, perché... Quindi un olandese, questo? Sì. Quando venne la nazionale, questo viene un olandese che è andato anche alle Olimpiadi. Quando venne la nazionale, la nazionale, insomma, la rappresentativa nazionale irlandese, non c'era un avversario per demolare. E allora, tramite il nostro amico Walter Brucioni, siamo riusciti a trovare gli avversari in Olanda, sempre per dare un'impronta internazionale a questo tipo di manifestazione che mi ha fatto a Capanna. Ecco, Marvin vorrebbe rientrare, però mi dici, poi due chili sembrano nulla, ma sono tantissimi, vorrebbe rientrare in super piuma perché come abbiamo visto, non avendo, non essendo molto alto, è chiaro che se riesce a scendere di categoria per lui è un vantaggio, perché trova probabilmente anche avversari un po' più alla sua altezza come statura. proprio. Sì, ma non è che si preoccupi troppo sinceramente della statura, della lunghezza dei bracci dell'avversario. È molto abile lui nell'avvicinarsi facendo le schivate, i movimenti. Ci arriva sotto, ci arriva sotto, evita diciamo il colpo di incontro. e che invece dov'è, su cos'è che devi lavorare con lui soprattutto? Ma sinceramente lui parlavi di una grande finale a Firenze del Guanto d'Oro, una finale dove No, no, il Guanto d'Oro l'hanno fatto a Rossano Calabro. A Rossano Calabro, sì, però alla fine ha perso. Alla fine ha perso perché è stato l'unica pecca e purtroppo vedi che per dopo i nodi vengono al pettine. ha fatto un Guanto d'Oro eccezionale come torneo, non ha sbagliato niente, ha fatto, mi sembra, quattro incontri prima di arrivare in finale, tutti incontri fatti con tattica. Abbiamo deciso prima una strategia che lui ha seguito diligentemente. Ti ha ascoltato? Ti ha ascoltato e tutto ha funzionato bene. Addirittura ti vorrei dire che ha vinto anche degli incontri con un notevole come si dice, sul plus. Non è che sei stato impegnato più di tanto. è arrivato in finale e ha trovato questo di tonto che è l'esatto opposto al suo, cioè, anzi non è l'esatto opposto, è come lui a dire la verità perché anche lui predilige lo scontro dalla corta distanza e non ti ha più ascoltato e non mi ha più ascoltato e è andato a fare proprio il gioco del suo avversario alla fine. È stato un match bellissimo, veramente avvincente, spettacolare dal punto di vista, cioè secondo me il pubblico si è divertito moltissimo. Io mi sono divertito un po' meno. Però tu sei stato pugile anche a certi livelli, quando si sale sul ring è chiaro che se si riesce a divertire il pubblico tanto meglio, però poi l'obiettivo è quello di portare a casa il match. Che ti alzi nel braccio. Non lo so, se no è inutile, mi ho dato spettacolo, sì, però alla fine hai perso. bravo quello a quale gli alza nel braccio. Quindi vabbè, prospettive di debutto per, beh, credo che ci saranno. Io credo, spero, spero nel breve, nel breve periodo. Quindi entro la primavera? Sì, sì, sicuramente sì, almeno il debutto sì. Ora il prossimo obiettivo sarà il debutto, senza proiettarci troppo in là, che è già una cosa importante perché è un'altra cosa, cioè il pugilato dei tempi di Paolo Cassani. Eh sì, no, abbiamo anche in Chiri che si allena la nostra supporta di San Giuliano che c'è comunque già sette match di pugilato professionistico che abbiamo mai mollato. No, 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 però siccome non è così facile arrivare a professionistico. assolutamente. Parlando anche prima dei vari Giuliano, Garofano, di questi ragazzini qui, non è così facile. Nel pugilato è una cosa veramente selettiva. C'è tutto un iter, una serie di passaggi per cui, insomma, poi non ti dico uno su un mille ce la fa, ma insomma, quasi. Guarda che non parli tanto a sproposito, non hai detto una cosa a sproposito. Quasi, 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 quasi. Va bene, andiamo a vedere anche, lasciamo queste immagini, adesso poi ne avremo altre. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Corriere della Sera verso il voto sterzata dei 5 stelle sull'euro. Di Maio non è ora di uscire, quindi 5 stelle che inizialmente avevano detto noi, se vinciamo, se andiamo al governo, stanno un po' rivedendo il tiro. Di Maio infatti dice non è ora di uscire, parla di uscire dall'euro, va anche la telefonata di De Benedetti su Renzi, timori del centro-destra sulla Lombardia, Berlusconi, nessun incarico a Maroni. Poi, lavoro occupati è crescita record, ma con i contratti a termine. Mai così, dal 1977, le disparità di genere in busta paga. Io non so quali sono le disparità, so che le buste paga in generale dei lavoratori italiani sono ferme da diversi anni, questa è una realtà, poi non so se... Poi si parla di clima, caro Giulio, perché, insomma, effettivamente qualcosa di strano c'è in giro, poi uno può fare tutte le supposizioni che vuole, può dire sì, ma è così, non è così. Nel Sahara nevica, a Roma fa caldo. Allora, questo è il... Guardate, poi valanga al nord, paesi isolati, clima stravolta, questo è il deserto, se non sbaglio, dove c'è la neve e questa ragazza, questa signora, signorina, a Roma, ieri, in maniche corte. ma non ci... Ora, una volta si diceva, no, possiamo tornare un attimo in studio, Marco, una volta si diceva non ci sono più le mezze stagioni, no? Adesso c'è da capire... Non ci sono più le stagioni, adesso non ci sono più le stagioni. Ci sono collocate le stagioni, no, no, a parte tutto, c'è l'esempio anche la situazione, ne hanno parlato molto nei giorni scorsi, ora, prima avevamo sentito parlare di bombe d'acqua, no? Anche da noi, ora bombe di neve, ora siamo arrivati alle bombe di neve, su tutta la costa del continente nord americano, New York ha fatto meno 20, meno 25 gradi con l'aeroporto bloccato, poi già nelle metropoli, megalopoli, lì, se succedono eventi del genere, è un caos. Si blocca tutto. E' un caos, vabbè, non lo so, non lo so, forse in futuro ne vedremo ancora delle altre, speriamo non troppe, te che dici? Speriamo di essere testimoni per lungo tempo di questi cambi atmosferici che ci saranno, secondo me invece continueranno e saranno sempre peggio. Parla una celebre attrice sulla prima pagina del quotidiano nazionale, Catherine Deneuve, un'icona possiamo dire, del cinema mondiale, Catherine Deneuve, difendo il maschio, perché come sapete c'è stata in questi mesi insomma la denuncia soprattutto ad Hollywood di queste attrici che sarebbero state molestate, avrebbero subito delle violenze ma anche soltanto verbali, questo non va mai bene assolutamente, ci mancherebbe altro. Cosa dice però Catherine Deneuve? Il caso molestie, dice, appello di Catherine Deneuve e 100 donne VIP francesi, la seduzione, dice, non è violenza, troppe punizioni sommarie per approcci maldestri. Ora chiaramente immagino che contro Catherine Deneuve si scateneranno, me lo immagino già, molte donne, vabbè, noi non commentiamo, no commento, Napoli, questa invece, questa poteva succedere a Napoli però, permettetemi di dirlo, anche se poi insomma di Napoli non si può e non si deve sempre parlare solo male, perché è ingiusto questo. Napoli, la nuova metro è troppo stretta, i treni non ci passano. Ora, sarebbe da capire l'ingegnere, gli architetti che hanno fatto tutto questo, di quali geni stiamo parlando, però, vabbè, si parla anche del festival di Sanremo, Carnevale non lo segui, Sanremo lo segui? Sì, già di più. La musica ti piace, sì? Sì, tanto. Allora, sai quest'anno lo presenterà Claudio Baglioni? Ah sì, la direzione artistica è stata affidata a lui. Baglioni arruola la Unziker e Favino, l'attore Favino, Fantasia a Sanremo, star straniere canteranno l'Italia. Che tipo di musica ascolti? Tutto, ma veramente tutto, dalla classica alla musica elettronica, tutto. Tutto, tutto. Ma Eroling Stone ci sei andato? Eroling Stone se a me non piacciono, sinceramente. Vabbè, non è che... Lo so che sembra di... No, no, ma non è che piacciono. Quindi mi sembra di capire come c'era questa contrapposizione, soprattutto negli anni 60, un po' come Coppie e Bartali nel ciclismo, benvenuti i mazzinghi nel pugilato. Rolling Stones, Beatles, quindi Beatles. No, neanche. Neanche Beatles. Neanche, neanche. Allora ti faccio un ultimo nome, poi dobbiamo andare quasi in pubblicità a quella delle nove. Ieri mattina qui con il maestro Pieruccini, lui ha rivisitato, ha rielavorato la buona novella di Fabrizio De Andrè. Ecco, De Andrè lo conosci? Sì, anche lui mi piace. Ti piace? Lì non è solamente musica, ma lei è anche poesia. Ecco, va bene, va bene, no, no, mi fa piacere perché, sai come lo dicevamo anche con Pieruccini, spesso in Italia diamo risalto e celebriamo la grandezza di certi personaggi che possono essere nel mondo della musica, della poesia, di quello che ti pare, del cinema, mi viene in mente Totò, Totò è diventato grandissimo dopo che è morto, finché è stato in vita aveva anche lui molte critiche, perché noi italiani siamo un po' così, no? Molte volte in Italia viene dato il giusto spessore, viene riconosciuto il giusto spessore ad un artista solo dopo che... Quando non c'è più. Solo dopo che non c'è più. Va bene, dai, velocemente andiamo a vedere anche il sito, il sito di Noi TV per vedere quelle che sono le notizie d'apertura che come sempre potete andare a consultare su www.noitv.it Poi quando torniamo, Giulio, parliamo anche del settore giovanile, se così lo vogliamo definire perché c'hai tanti ragazzi e dei problemi legati all'impianto. arrestato il direttore dell'istituto vendita e giudiziaria di Lucca, poi troviamo interrotta la statale 12 alla pietone per un masso caduto in località Scesta. Per quanto riguarda lo sport, poi ne parliamo nell'ultima parte, pazzo, Cigici-Viareggio, pari a Baldagno, e lì sera nel posticipo è finita 7-7, Superventura ne fa 4, ma 4 gol del fuoriclasse del Cigici non sono bastati a dare la vittoria alla squadra via Regina. Poi la lucchese cerca di ritro... No, aspettate, faccio... se faccio F5... Allora, lucchese cede maglie al Fano, ora è caccia aperta ad un centrocampista e poi per il basket, la Genova Centro Mini Basket fa sua d'autorità la partita con il Montale, la squadra di piazza, vinto 88-70. Allora, ci fermiamo. Pausa pubblicitaria, quando torniamo parliamo di tutti questi ragazzini che hai in palestra, ne hai tanti, dei tuoi collaboratori, anche quelli sono un buon numero anche se non sono mai abbastanza e poi di quello che rimane il solito annoso problema della palestra, che potrebbe... La nostra palestra. Di una palestra vostra, dice, di una nostra palestra, come invece per fortuna hanno anche qui vicino... vicino a noi. Ne parliamo tra poco con Giulio Monseles. Sono le nove in punto in compagnia di Giulio Monselesan della pugilistica lucchese. Ho visto, scrutavi ancora tra i tuoi appunti. Cosa scrutavi, Giulio? No, scrutavo perché volevo vedere quanti bambini avevamo tesserato nel 2017. Tra l'altro, noi poi avremo anche altre immagini che Marco ci proporrà. Allora, no, diccelo allora, a questo punto ci ha incuriosito. Allora, noi abbiamo nel 2017 197 tesserati di cui 52 del settore giovanile. Cioè, bimbi che hanno dai 5 ai 13 anni. 52? 52 bambini. Dai 5 ai 12 anni. Quindi parliamo proprio di bambini. Sì, ai 13 anni. 52 sono un buon numero. Come li suddividete? Come lavorate? Eh, purtroppo, ora chiaramente questi 52 non è che si allenano contemporaneamente sempre tutti insieme. Però abbiamo una presenza che va da 20 a 30, 35 bambini a sera. Anche quando era? Ieri mi dicevi. Anche ieri, sì, ne avevamo tantissimi. E questi bambini siccome devono fare delle cose diverse fra di loro, cioè, appartengono a varie categorie. Quello di 5 non può fare quello che fa il bambino di 12, ovviamente, c'è una bella differenza. C'è una parte che praticamente possono fare tutti che è la parte prettamente atletica ma poi dopo quando si va sul tecnico sarebbe opportuno che ognuno facesse il suo. E per questo abbiamo bisogno di un buon supporto anche per quanto riguarda i tecnici. Fra altre cose vorrei ringraziare, se mi permetti, Samuele Giorgi, un ragazzo, figlio di Orlando Giorgi che è uno dei nostri tecnici che mi sta dando una mano in modo lodevole diciamo con i bambini avendo sostituito un mio figlio Lerardo. Perché poi vanno seguiti questi bambini non è che li portano a palestra poi vanno seguiti quindi più tecnici ci sono e più la possibilità di seguirli meglio, no? Sì, sarebbe meglio perché se no dopo il numero va a discapito della qualità come ti stavo dicendo anche prima e pertanto sarebbe opportuno almeno avere minimo tre istruttori giovanili ma ci arriviamo, ci arriviamo. Fino a 12 anni quindi cosa fanno? 12 anni fanno spari da quest'anno 2018 ancora in una città circolare ma abbiamo avuto già delle informazioni così non ufficiali cambieranno un po' i modelli di gara cambieranno un pochino i modelli di gara e ci avvicineremo sempre di più al pugilato ricordando però cioè al pugilato quello agonistico ricordando però premettendo lo dico per i genitori che magari avessero una mezza idea di portare a provare che vengono a fare il pugilato si fa bene a sottolinearlo che non esiste il contatto pieno cioè è proibito dalla federazione avere il contatto pieno prima dei 13 anni compiuti a 13 anni il bimbo si trova davanti a un bivio dove può continuare a fare diciamo il pugilato amatoriale senza il contatto pieno oppure intraprendere come hanno fatto questi bimbi che abbiamo elencato prima Giuliano Frugoli Masa eccetera eccetera possono intraprendere invece la strada del pugilato agonistico allora ricambia tutto però fino a 13 anni non esiste il contatto ecco come sono questi bambini geni si divertono come 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 chiaramente perché perché i bimbi vengano volentieri in palestra e ti devo dire la verità con enorme piacere dico che i bimbi vengano volentieri in palestra loro prima di tutto devono giocare quindi è un gioco per loro tutto deve essere fatto passare attraverso il gioco poi ci sono le regole ci sono i tempi da rispettare ci sono delle cose obbligatorie da fare però tutto deve essere fatto in modo ludico sono arrivati i messaggi allora poi proseguiamo questo non riguarda la pugilistica lucchese ma riguarda siete stati ospiti tra virgolette in un certo senso riguarda la lucchese forse un messaggio che già anticipa quello vi ricordo che domani sera giovedì torna Curva Ovest alle 21 la trasmissione dedicata alla lucchese questa domanda del nostro telespettatore me la sono fatta ieri quando è arrivato il comunicato stampa della lucchese allora ci chiede questo nostro telespettatore sabato c'è l'amichevole perché il campionato adesso è fermo alle 14.30 al Porta Elisa lucchese Carpi il Carpi è una squadra di serie B quindi poi poi ti arriva il comunicato che c'è questo amichevole in redazione e tu sei tutto contento e tu dici mamma mia si vede una partita contro una squadra di serie B finalmente poi precisazione a porte chiuse e allora già ti fai qualche domanda e il nostro telespettatore dice perché contro il Carpi a porte chiuse aggiunge non si può crescere come società se si tiene fuori il tifoso e sponsor contro un team di serie B grazie trasmissione eccellente quindi non so se si riferisce a Buongiorno con noi o a Curvo Oves spera a tutti e due non è che viene tenuto fuori il tifoso lo sponsor ultimamente lo posso dire viene tenuto fuori anche il giornalista da certe situazioni oppure se un momento non va alla montagna la montagna non viene a un momento come sapete a Curvo Oves dove da mesi non abbiamo tesserati della lucchese di domande uno se ne potrebbe fare tante di risposte darsene altre però io credo che comunque poi nella vita c'è sempre alla lunga un resoconto una giustizia hai detto bene prima te i nodi vengono al pettine a noi forse più facilmente perché stamani uno ha capelli più lunghi dei miei quindi per favore non mi dite niente Giulio non mi dite niente no vabbè cosa possiamo dire a questo tifoso non lo so viene il Carpi formazione di serie B io sono convinto non voglio esagerare sabato 14 e 30 io sono convinto non voglio esagerare ma 5-600 persone allo stadio ci vanno ma tranquilli e la società ha detto che siccome ci sono dei costi per aprire lo stadio al pubblico e così allora non si può vabbè a me qualche perplessità rimane tu no comment no no io non assolutamente non lo tocco il tasto rucchese purtroppo non lo voglio toccare perché sono stato però quel dirigente non c'è più adesso quel presidente non c'è più buon per i tifosi della rucchese ce ne sono altri se ti dovesse rispondere i tifosi della rucchese in questo momento ti direbbero Giulio non c'è più quell'altro adesso ce ne sono altri non sono molto contenti anche se quelli che ci sono ora va detto che bisogna dare un colpo al cerchio nella botte che hanno fatto cose che insomma a febbraio hanno salvato la società questo va detto se no poi se no sembra di no guarda io mi riferisco alla vecchia dirigenza credo che senz'altro trovare qualcosa di peggio della vecchia dirigenza sia difficile io poi sono testimone ufficiale di diverse vicende perché quando eravamo all'interno lì dello stadio vi assicuro che insomma io credo che i tifosi lucchesi ci abbiano solamente guadagnato poi di più non ti senti di lì non mi senti invece c'è una whatsapp per te per voi della pugilistica la pugilistica lucchese dice questo nostro telespettatore è un'eccellenza dello sport lucchese e fa sì che tanti ragazzi e ragazze a partire dai 5 anni ne stavamo appena parlando possono fare attività motoria seguiti da tecnici competenti un esempio riuscito di socializzazione che unisce e non divide ecco questo è anche bello eh bene bello sì sicuramente ci conosce questo questo signore che ci ha amato il il messaggio perché è testimonia appunto di quello che succede in palestra in palestra cioè c'è una socializzazione non comune voglio dire tutti sono amici di tutti si allenano insieme si divertono insieme guai non c'è no ma possiamo dire una cosa poi nel pugilato come per altri sport che magari erroneamente con superficialità con ignoranza tra virgolette vengono considerati sport violenti che non è assolutamente vero nel pugilato io che seguo da tanti anni ho potuto notare Giulio lo può testimoniare molto meglio di me perché lui ora è maestro è stato pugile professionista ha combattuto per il campionato italiano e così via c'è un rispetto anche tra i due avversari c'è un rispetto che in altri sport non c'è sì ma questo rispetto poi fra le altre cose che ci si picchia su riga ci cerca di superarsi però poi non è imposto è una cosa naturale che viene cioè ai ragazzi non gli viene insegnato che a fine match si devono abbracciare non gli viene mai nessuno mai gli ha detto viene naturale viene spontaneo è una cosa perché quando due uomini si sono incontrati sul ring e hanno dato tutto quello che avevano quando finisce la contesa chiamiamola così non c'è più niente da fare non c'è più niente da dire capito? senti Giulio da anni intanto è arrivato un altro messaggio perché voglio parlare chiaramente anche di quello che è un problema purtroppo esistente perdurante allora io me lo immaginavo riguardo alla partita a porte chiuse è solo una questione di soldi parlare con i soldi degli altri è troppo facile la partita serve solo da allenamento no ma io non ho detto non ho detto che la società non ha le sue ragioni a voler risparmiare io non voglio fare conti in tasca a nessuno probabilmente se la società ha preso questa decisione di giocare a porte chiuse ha le sue ragioni però cercate di capire anche i tifosi della Lucchese che magari non sanno di tutti i conti non hanno i conti in tasca delle cose e di conseguenza possono giustamente ah sì possono anche giustamente poter dire avere qualche perplessità allora mentre vedo inquadrate la gazzetta dello sporco che vedremo più tardi adesso noi ci fermiamo però per la pausa pubblicitaria caro Giulio torniamo subito dopo perché credo che stamani dobbiamo chiudere con qualche minuto di anticipo tra poco allora eccoci tornati per l'ultima parte di buongiorno con noi che per motivi tecnici stamani dobbiamo chiudere con qualche minuto d'anticipo allora Giulio parliamo subito di quello che è un problema per voi perdurante che va avanti purtroppo da danni accennavamo già ai tempi che eravate ospiti allo stadio nel frattempo vi siete spostati però non avete ancora una vostra sede una vostra struttura che vi potrebbe dare io ti vorrei correggere ma non vorrei sembrare polemico noi allo stadio non eravamo ospiti noi allo stadio eravamo a casa nostra perché la pugilistica esisteva da 40 anni dentro lo stadio non è che è stata lì due giorni detto questo insomma ancora non riusciamo a trovare una collocazione adatta a noi ricordiamo dove siete in questo momento noi in questo momento siamo ospitati dalla scuola Pertini dalla preside dei professori che ci hanno appoggiato in tutto e noi siamo felicissimi il rapporto bellissimo anche di collaborazione con la scuola fra le altre cose però obiettivamente non siamo ancora nel nostro posto noi avremo bisogno di qualcosa di più per poterci esprimere come possiamo come vogliamo mi hai fatto l'esempio di Firenze se non sbaglio sì ma ne potresti fare tanti altri dove hanno una loro ora mi è venuta in mente quella ma ce ne potrei fare 20 loro hanno una palestra non so se si può dire boxing club Firenze ma c'è nessun problema hanno una palestra molto grande dove all'interno è collocato un ring regolamentare come abbiamo anche noi come potremmo avere anche noi fra le altre cose e loro organizzano minimo una volta due al mese anche tre ora fanno un torneo un EPI organizzano tantissimo senza dover preoccuparsi di trovare la struttura per fare organizzazione chiedere permessi e pagare tutte le volte dove spostare voi avete anche il problema quasi quotidiano di dover spostare comunque noi ogni giorno siamo costretti a montare e smontare tutta l'attrezzatura potete immaginare che è una situazione di estremo disagio ci manca comunque di materiale ci alleniamo senza il materiale che dovremmo avere però nulla toglie che anche nel 2018 vorreste al di là di tutti gli impegni dei vostri pugili di demolari che passa al professionismo vorreste organizzare delle riunioni ma certo ci piacerebbe perché noi abbiamo visto anche ultimamente che il pubblico ha risposto sempre sì che vuol dire che il pugilato piace le ultime manifestazioni che abbiamo fatto sono sempre state gremite di pubblico ho avuto ottimi risultati ci piacerebbe poter regalare al pubblico ma soprattutto ai nostri ragazzi l'opportunità di combattere di fronte al proprio pubblico perché noi non ci scordiamo che proprio per questa problematica siamo costretti sempre ad andare fuori andare noi a casa dell'avversario e non il contrario capito? qui invece avete organizzato l'ultima riunione se non ricordo male che avete organizzato è stata a Capannori tra l'altro abbiamo organizzato a Capannori a San Leonardo in Treponzio sì sempre il comune di Capannori sempre come in Capannori peraltro l'unione che tengo a precisare dove i proventi della riunione al netto delle spese sono stati dati in donazione come nella riunione precedente sono stati devoluti via devoluti questa se non sbaglio è proprio una delle riunioni e la riunione di San Leonardo in Treponzio sì se non riesco a capire di qui non riesco a conoscere però a riconoscere però ecco senti se ti chiedessi invece abbiamo detto di demollare quindi di questo debutto nel professionismo se ti dicessi invece un auspicio che ti fai per questo nuovo anno per il 2018 per la tua squadra per i tuoi ragazzi per la tua società una palestra voglio voglio che la pugilistica luchese più di ogni altra cosa abbia la sua casa speriamo che questo non sia che diventi realtà il più presto perché è una cosa che veramente va avanti da troppi anni velocemente vediamo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina poi andremo alla conclusione di questa puntata un po' più breve del solito di buongiorno con noi Juve mai così max si parla della Juventus Allegri decide più degli assi e vince più di tutti e vi spieghiamo perché quindi poi Murigno Conte nuova rissa stellare questi due non la finiscono più mi permetto di dire Antonio sai cos'è l'epo Murigno rivolto a Conte e Conte che risponde grave quello che ha detto Murigno non dimenticherò parlavamo prima del grande senso di sportività che due pugili comunque poi trovano della fratellanza quasi dopo che se le sono date di santa ragione ma questi signorini sarebbe l'ora che la smettessero secondo te oppure il gioco delle parti bravo mi ha anticipato non so se è una cosa che sia magari si abbracciano anche loro che non sia stata studiata magari invece ci sono ci sono spiragli per quanto riguarda i giochi olimpici e soprattutto la situazione delle due Coree giochi di pace storica intesa tra le Coree via il disgelo speriamo che lo sport serva altre volte è servito sì ma lo sport è un buon veicolo serve ad unire più che a dividere poi in quotidiano sportivo c'è Mancini che balla non so se è il tango quello che ballava qui Valzer Italia Roberto Mancini si candida alla guida della Nazionale mentre la Feder Calcio stanzia una cifra record per il commissario tecnico che sostituirà l'avventura quasi 10 milioni all'anno buon per lui poi si parla di motori Dovizioso Ducati rinnovo difficile il pilota chiede un maxi aumento andiamo velocemente anche alle pagine locali Lucchese il difensore centrale Magli finisce a Fano ora il direttore sportivo Bedio va a caccia del centrocampista piacciono Provenzano Castiglia e Pellegrini poi trionfano gli sciabolatori della Puliti vittoria dei campionati regionali di Lidia Radoi Zaccaria Vincenzi e Giacomo Gniec la Puliti Lucca altra società ammirevole importante nell'ambito della squadra e poi il basket femminile il Gesan Lemura contro grandi squadre serve più energia lo dice il coach delle Mura Barbiero che indica la squadra ecco i punti forti e deboli delle Biancorosse ed infine l'occhi su pista ne parleremo in modo più diffuso nei Tg del tardo pomeriggio e della sera il centro giovani calciatori Viareggio a questo centro non basta neppure un Superventura che ha segnato quattro gol finisce 7 a 7 a Valdagno e la squadra Viareggina spreca davvero l'occasione questo lo aggiungo io di agganciare Forte De Marmi e Lodi anche se in classifica adesso la classifica dice Forte De Marmi 37 Lodi 36 Cici Viareggio 33 se non ricordo male quindi comunque non è troppo lontano Giulio siamo in chiusura io ti ringrazio di essere stato con noi ti auguro un grossissimo in bocca al lupo si dice no nel pugilato si per il 2018 noi naturalmente grazie hai visto che da quando vi siete organizzati che mandate anche delle immagini riusciamo a fare anche cose un pochino più di servizi che la televisione e alla fine anche immagini vai davvero un grosso in bocca al lupo a te a tutti i tuoi collaboratori a tutti i ragazzi per quello che fate e che questa palestra diventi una realtà grazie Giulio Monserre buongiorno con noi torna domattina sempre all'8.30 rimanete con noi perché tra poco ci sarà la prima edizione del TG Noi grazie e buongiorno grazie a tutti i ministri ciao a tutti ieri grazie a tutti ieri